Ciao a tutti, per chi verrà il 3 dicembre all'escursione storica sulla prima linea italiana ci troveremo nel parcheggio del sentiero etnografico di Rio Caino alle ore 9 da qui partiremo, non faremo il sentiero etnografico ma faremo la prima linea italiana da lì spiegheremo le infrastrutture, spiegheremo tutto il contorno, la logistica e alcuni racconti narrati durante il viaggio, questo percorso si snoderà in 300 metri di dislivello, non in sentiero segnato ma su vecchi camminamenti, vecchie trincee e fino a quando ci arriverà alla Marga Caino da lì, visto la giornata, lo sport e robe varie, se tutto fila buono andremo a vedere anche il bunker in caverna situato sopra la Marga, torneremo indietro, si va a mangiare al rifugio di Marga Caino e poi si andrà a vedere dopo pranzo il piccolo museo dei recuperanti che verrà allestito dal timidra dei recuperanti del lago di Idro che vi porterà a far vedere quello che abbiamo trovato sul campo non spiegando solo le opere e le infrastrutture ma anche quello che abbiamo trovato sul campo vi aspettiamo numerosi, speriamo che riuscirete a venire e almeno ci conosciamo un saluto a tutti e niente, al 3 dicembre ore 9, qua nel piazzale di Marga Caino adesso metterò alcune... dimenticavo per tutti i partecipanti vi sarà un portachiavi fatti dalla bravissima Barbara Liverani per questo evento un saluto a tutti grazie a tutti